Bentornati CryptoGamers, io sono Masterwush, membro della community Discord NFT Italia. Nel video di oggi vi mostrerò un documento pubblicato direttamente da The Sandbox che prende tutte le informazioni più importanti degli eventi e degli aggiornamenti accaduti nel 2022. È stato un grandissimo anno e non vedo l'ora di mostrarvi tutti i traguardi e i numeri raggiunti da The Sandbox. Partiamo subito con le informazioni generali. Un milione di utenti hanno giocato a The Sandbox nel 2022. Gli aggiornamenti più importanti sono stati gli eventi stagionali che ci hanno permesso di giocare e raccogliere i premi, l'aggiunta di nuove meccaniche di gioco, l'arrivo delle collezioni Avatar, Doggies, Care Beers... tutto questo con lo scopo di incrementare l'intrattenimento e le opportunità per i gamer. Passando al Game Maker, per il 2022 finalmente è stata aggiunta la compatibilità con MacOS. Sono state aggiunte più funzionalità per gli Avatar. Sono stati ridotti drasticamente i tempi di caricamento. Il Game Maker è stato scaricato in totale un milione di volte, quasi un milione di volte. E sono state pubblicate nella galleria all'incirca 10.000 esperienze. La galleria è dove chiunque può caricare le proprie experience e farle provare agli altri. C'è un accenno anche alla versione 0.8 che è stata rilasciata all'inizio 2023, ma è comunque importante perché ci sono altre funzionalità per gli Avatar. Nuoto, accovacciarsi, scivolare. L'aggiunta di effetti visivi e di giochi con le luci veramente straordinaria. Volevo farvi vedere qua. Guardate. Guardate le luci. Guardate la torcia. E io ho provato già qualche esperienza. È effettivamente straordinario la gestione delle luci che si ha ora. Le ombre rendono tutto molto più realistico. Inoltre la possibilità di aggiungere video e audio in streaming. Credo che in streaming intendano dal vivo. Passando al VoxEdit sono stati fatti aggiornamenti generali per migliorare l'user experience e la user interface dei creatori. Quindi è molto più semplice e comprensibile costruire asset con il VoxEdit. Passando al Marketplace sono stati creati 810.000 asset e sono stati mintati, facciamo asset unici, 3.224. Ovviamente questi asset hanno delle copie per un totale di 1.521.000 asset mintati. Totale asset comprati 118.000 e in effetti unici 2.379.000. Quindi la gente compra con i send gli NFT. Sul Marketplace dei sandbox, parlo di quello, non lo pensi. Per un totale di volume di 1.795.000 send. Obiettivi dal punto di vista dell'ingeggiamento della community. Sono stati superati l'1 milione di follower nel Twitter account, quello principale. Il Discord ha superato i 300.000 utenti registrati e ci sono tanti volumi, si parla spesso sulle chat generali di Discord, di The Sandbox. E sono stati registrati 1.5 milioni di account su The Sandbox. Un bel traguardo. Parlando delle land, abbiamo raggiunto nel 2023 23.000 land owner. Questo grazie alle sale che ci sono state. Questo significa che il 69% delle land è già in mano ai giocatori o investitori o partner. Nel 2022 sono state inventate 10.000 nuove terre. Nel 2022 è stato anche l'anno degli avatar. Sono stati aggiunti finalmente, oltre a quelli che si possono già creare all'interno del proprio profilo, degli avatar provenienti da collezioni di brand famosi o di altre PFP che già possedevate. Quindi questi sono quelli degli partner, i Doggies, Playboy, Party People, People of Crypto, Steve Walkie, ma anche NFT che noi conosciamo come Inbound Birds, Moonbirds, Cool Cats, Rabbitars. Sono stati letteralmente brigiati come avatar su The Sandbox e quindi se ne possedete uno potete automaticamente usarlo come avatar. In totale per ora abbiamo 42 collezioni, ma nel 2023 ce ne saranno molte altre. Nuove animazioni di ballo per socializzare nel metaverso. Il passaggio su Polygon. I contratti sono stati passati su Polygon. Ad esempio le terre sono state brigiate. E inoltre sono stati eseguiti tantissimi nuovi audits, 23 audits in totale. E più di 100 report per il bounty program. Sono state aggiunte due pool per lo staking, quello per chiunque e quello per i landowner. Ovviamente passare su Polygon ha ridotto le gas price, quindi i costi di transazione. Inoltre The Sandbox offre 10 transazioni gratuite al mese per ogni utente. Quindi se dovete prelevare i sandalo staking, metterli o reclamare delle ricompense, avete queste 10 transazioni gratis che in realtà sono su rete Polygon, quindi le pagano loro per noi. E in arrivo molto molto altro per questo 2023. Nel 2022 sono state eseguite tantissime partnership. Ne abbiamo viste. Steve Wokie, Edmau, Gucci, Playboy, Rabbids. E molte altre sono in arrivo. In totale ci sono state durante la season 3 più di 17 milioni di visitatori. Stilificando il numero rispetto alla season 2, che comunque la season 3 è stata fatta in pieno bear market. L'Alfa Lobby è stata quella più visitata. Il tempo di gioco di medio dei player per giorno è di 1 ora e 20 minuti. Abbiamo giocato a 98 differenti esperienze. E l'Alfa Season 4 includerà molte altre esperienze eccitanti e molte altre meccaniche di gioco. Io non vedo l'ora di vederle. Passiamo quindi alla parte di sviluppo delle esperienze. Il game maker found consiste nel quel fondo usato da The Sandbox per incentivare, per dare dei fondi ai creatori indipendenti. Quindi oltre alle esperienze create dai partner ci sono aziende piccole che desiderano costruire le proprie esperienze, le proprie esperienze su The Sandbox e per farlo chiedono agli game maker found i fondi. Sono stati distribuiti 12 milioni di dollari nel 2022 per supportare 130 differenti studi indipendenti e sono pronti ad aggiungerne molti altri nel 2023. Quindi in totale l'ecosistema dei creatori e delle agenzie e degli studi comprende 700 e più persone. E ci sono stati 300 grandi creatori e studi che hanno potuto sviluppare per experience importanti, che ovviamente Gucci si fa a The Sandbox per creare la propria experience. È un esempio, eh. E quindi abbiamo finito. Sicuramente per The Sandbox è stato un grandissimo anno. Vi lascio il link a questo medium in descrizione, se volete raccogliere anche voi informazioni. Spero vi siano state utili e noi ci vediamo nel prossimo video. Grazie per la visione! Grazie.